Musica Come sta filmati? Allora Io So truccata Ah devo mettere le ciglia finte Mi sono dimenticata Bene Allora La luce fa È il quanto cagare Comunque questo qua È il make up Così Mia raga Fa un caldo allucinante Io ora non so quanti gradi ci possono essere Ma c'è Fa un caldo assurdo Allucinante Così Adesso devo mettermi le mascara Le ciglia finte E fa un caldo atroce Io non ce la posso fare Ragazzi Vado un attimino a mettermi le Le ciglia finte E ritorno Perché tanto Dove Allora Dovevo filmare Tutto Il trucco Ok Convintissimo Ho detto Si dai registro tutto Wow 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 Non ha registrato un cazzo Cioè io con la tecnologia Non è che vado proprio d'accordo Eh ragazzi Però Dio Buono Ogni volta La millesima volta Che succede Bu Ma mi sto schiattando di caldo Cioè Veramente Veramente Terrificante Qua È tutto a macchie Non so che fa Perché fa caldo Ma fa Io sudo tantissimo Eh Cioè io sudo veramente tanto Eh Si fa caldo Ora non so Questo è Cioè Fa caldo Non ce la posso fare E niente Adesso Ah che bello Devo Oddio io non ho ancora mangiato E' buono Mangiarò un po' di Mazzedonia Mangiarò un po' di Mazzedonia Ok Eh Altro Più che altro Con sto caldo Io mi dimentico di mangiare No veramente Mi dimentico di mangiare E Quindi Ok Non si vedrà un cazzo Allora così Ecco Ok Ok Bom Io mangio La Mazzedonia E E noi ci vediamo Fra poco Ciao ragazzi Allora Si Ho il capellino Perché ho una testa Aberrante E devo E andare A casa Del boss A cambiarmi E Mi sono truccata Veramente Fa un caldo Allucinante Ho Il cerone Che si sta Disgregando Si vuole Sono gialla Si sta disgregando Pian piano Ed è una cosa Terribile Mi faccio truccata Solo la parte sopra Degli occhi Però Il trucco Che mi piace tantissimo Se vi interessa Farò una Una Un video tutorial Su come realizzarlo Veramente Semplicissimo Nulla di Difficile Ok Sto Cercando di caricare Una foto su Instagram Una delle tante Sono tutte uguali Fis selfie Però c'è questo Cappellino Così top power Che Fa tutto più power Se mi fa mal Abbraccio Sto cercando A metto un filtro E Allora Io adesso Chiamerò il taxi Mi vedete Non lo so Vabbè Comunque Io adesso metto Di host talk Caso E Ora chiamerò il taxi E Vado E poi A ferigliotta Ciao Adesso Ci finiamo di preparare Merced Si deve toccare E poi Andiamo Nel luogo Nell'aperitivo Ci vediamo dopo Così vi faccio vedere Anche l'outfit Eccetera Siamo arrivati Adesso si torna l'aperitivo Stiamo facendo due scatti In giro Faccio vedere Un po' meno l'outfit Ciao Mercedez Ciao Ciao Fatemi un giro Ragazze E adesso ci facciamo Un bellissimo giro Surry Show Per iota Yes Mercedez Saluta Ciao 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 Che finiria solo con Batti Mai Stiamo appena iniziando La Perigliotta Qui al Sheriff stai tranquilla, vai, ti guido io non mi preoccupa è importante che tu faccia delle belle foto qui alla Perigiosa mi saluto ci vediamo presto il prossimo appuntamento è il 13 agosto ciao scusate, ciao ciao e l'aperitivo sta proseguendo alla grande ci sono tantissime persone e fa tantissimo caldo si muore di caldo ma ne vale la pena a Perigiosa adesso io questa matta ci andiamo a fare il giro sul riscio questa qui per il Mercedes ma adesso le facciamo vedere è il Mercedes che non ha neanche le porte non ha il tetto amore, è Gabriel è il campionato abbiamo preso quello più economico e con questo se lo vesti me lo si paga è il Mercedes questo è il Mercedes mamma allora va la guida allora aspetta un attimo oh mio, davvero guarda guarda aspetta ma dove cazzo si fa? ah si ma c'ho la gonna e io qua oh aspetta ma orè? ahah scusa ahah e io non c'è sto c'ho la gonna stretta ma non ci sta perché ho la gonna troppo stretta ma dove devi pedalare? ah che culo anche là ah come si chiude? ma dove metto? fra il tacco e la il tacco e la no ma io non ce la faccio ma metti ho la gonna e io no ma aspetta 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 come si prema? ah ma sto mostrando le mutande a mezzo a trieste va adesso stiamo andando grazie però andiamo a porti qua mamma mia ma hai assicurato sta cosa? ma il klaxon? pipì no mamma mia ah orca troia è andato aspetta buona sera io sto ho il pedale fra il tacco e il plateau è amore anche io sì ci partiamo sì adesso gira dove? qua mamma mia buon appetito buon appetito in play oh in unità ciao che buono ciao mamma mia ciao ma vai piano lasciamo andare c'è una signora c'è una signora figata sta cosa giudice è trieste ma grazie giudice occhio al palo stai su da sette camice e ne ho una una più costretta mamma mia ah che bella oh mio dio oh mio dio hola hola come sta? stiamo a morire tre splendide fanciulle che partono domenica domenica viva ciao ragazzi allora questo qua è stato un video un brevissimo video su la periota io ringrazio veramente tutti quelli che sono venuti ringrazio tutti gli otters e tutte le persone che ci vogliono così tanto bene io sono stanchissima però volevo veramente ringraziarvi in una maniera assurda perché a senza di voi noi non saremo niente quindi grazie mille è stata una bellissima occasione per parlare per conoscerci meglio e per passare del tempo così un po' più spensierato io vi mando un grandissimo bacione un fortissimo abbraccio e noi ci vediamo alla prossima iota e al prossimo video ciao un bacione